Umbria Sport Magazine Umbria Sport Magazine Mister, ieri aveva chiesto entusiasmo da parte della sua squadra per sostenere i tifosi, per chiamarli al curi, per ricreare il fortino. Primo tempo del Perugia di grandissima sostanza e tecnica, secondo di sofferenza e cuore. Cosa c'è di più entusiasmante di una vittoria così? No, no, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare oggi. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali e comunque abbiamo fatto una partita a momenti che ha dato entusiasmo. Oggi era il nostro compito perché l'entusiasmo l'avevamo fatto calare noi con tre sconfitte. Era il nostro compito riportare un po' di allegria in questo stadio. Oggi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. L'espulsione di Sadik ha cambiato un po' i piani per un secondo tempo che è diventato assolutamente di sofferenza, però credo che oggi siano venute fuori anche delle individualità di grande personalità per gestire il risultato. Sì, oggi poteva essere più complicata, invece è stata meglio di come pensavo. Abbiamo difeso bene, ho avuto poco l'impressione che loro potessero metterci in grande pericolo perché abbiamo fatto una partita di squadra. Quello che magari ci è mancato in alcune situazioni dove non abbiamo portato a casa a qualche punto nonostante le buone prestazioni. Rossi, Falzerano, giocatori che sono una prospettiva futura anche per il Perugia. Oggi veramente hanno fatto benissimo, però vorrei sottolineare anche il sacrificio di Pasquale Mazzocchi a sinistra. Tutti bene, tutti bene, Pasquale la prima volta a sinistra, ha fatto anche l'assi un'imbucata sul primo gol, ha fatto una partita eccezionale, oggi tanti, oggi tanti si sono presi responsabilità. Falzerano si è preso responsabilità importanti, Verre uguale, la difesa ha tenuto botta, Sgarbi, Ghio, tutti. Carraro, Carraro ha fatto una partita eccezionale anche lui. Ho detto, oggi trovare uno meglio dell'altro faccio fatica perché hanno giocato bene tutti, tutti e tutti. Allora tiriamo una linea, dopo queste tre partite bisognava stabilire l'obiettivo, qual è l'obiettivo del Perugia? Ho detto, lo dicevo ai giocatori e lo tiro a loro. E va bene, ci abbiamo provato, però adesso si torna il Curi venerdì contro il Verona, partita comunque difficile, anche in quel caso per riscattare una gara d'andata che è rimasta con la mare in bocca, no? No, ma noi non dobbiamo riscattare niente, noi dobbiamo pensare al presente e al prossimo futuro. Passato, non bisogna riscattare niente, bisogna solo pensare che la prossima partita è fondamentale per la classifica e spero che vengano tanti tifosi, alcuni, perché dobbiamo creare quell'entusiasmo che i giocatori spingono, se vengono spinti spingono ancora di più. Grazie mister, grazie. Marco Carraro ai microfoni di Umbria Radio, partita dura, partita difficile, primo tempo dove avete fatto molto gioco, due gol, poi nella ripresa c'è stato da soffrire. Sì, abbiamo iniziato bene la partita nel primo tempo, poi quell'espulsione diciamo un po' sfortunata all'inizio del secondo tempo che c'è un po' compromesso tra virgolette, ma abbiamo comunque tenuto abbastanza il pallino del gioco, poi è chiaro che con un nome in meno la squadra avversaria debba attaccare di più, però non mi risulta che abbiamo corso questi grandi pericoli. La tua presenza in campo, ovviamente da fisicità e tecnica al centrocampo del Perugia, ti aspettavi di essere riconfermato oggi dopo Venezia? Ma ero contento dopo il buon esordio a Venezia e poi non sono io che faccio le scelte, è chiaro che se il mister mi fa giocare sono contento, se decide di far giocare un altro dobbiamo comunque remare tutti dalla stessa parte. Perugia che è tornato a fare punti al Curi di fronte al proprio pubblico dopo tre sconfitte, cosa vuol dire questo nell'ottica del campionato? Abbiamo dato un segnale molto importante al campionato, le ultime due vittorie sono state fondamentali per capire quello che può essere il nostro obiettivo e niente, non dobbiamo mollare e continuare così fino alla fine. Verona? Verona verrà qui per fare la partita, per vincere la partita, dobbiamo essere bravi noi a stare calmi, a giocare come mercoledì, come oggi e poi le cose secondo me verranno più semplici. Grazie Marco Carraro.